gentili telespettatori buona giornata burioni ormai lo conosciamo dice che il vaccino covid è miracoloso e il rifiuto a questo vaccino è è per lui incomprensibile dicendo che durante il lockdown lo abbiamo sognato un vaccino così e dice di rimanere stupito di fronte al 10 per persone che rifiutano senza alcuna motivazione razionale un vaccino che ha una sicurezza mai vista prima e un'efficacia superiore a ogni speranza il vaccino dice è miracoloso protegge con una percentuale altissima contro le conseguenze gravi dal covid e così il professor roberto burioni virologo del san raffaele si esprime così nel salotto di fabio fazio a che tempo che fa dice durante il lockdown abbiamo sognato un vaccino così sapere che qualcuno lo rifiuta è incomprensibile per un medico ci vuole un sociologo perché per capire perché succede cosa succede se qualcuno non sa di essere positivo e riceve il vaccino se uno ha il covid e si vaccina l'unico effetto negativo è lo spreco di una dose di vaccino non c'è nessun problema per chi ha il covid e si vaccina beh caro burioni in tutto il mondo da che mondo è mondo quando c'è un vaccino non si vaccinano tutti c'è sempre una percentuale di persone che si rifiuta per i motivi più disparati quindi immaginare che a un vaccino che ci si lo faccia che un vaccino lo faccia il cento per cento della popolazione significa non aver studiato molto alcuni aspetti del vaccino perché non credo che nei libri di testo c'è scritto che storicamente quando esce un vaccino tutte le persone il cento per cento si vaccinano c'è sempre una percentuale che non si vaccina pertanto il suo stupore sul perché non si raggiunge il cento per cento mi sembra un po un po superficiale come battuta ma forse doveva fare la battuta in televisione chi lo sa intanto vediamo se vi racconto qualche altra notizia vi racconto vediamo sul quirinale se ho qualcosa da raccontarvi ecco salvini dice sull'elezione al quirinale ho esagerato in lealtà il leader della lega dice andiamo a testa alta abbiamo scelto noi per il bene del paese ma noi chi tu e la sinistra abbiamo scelto noi per il bene del paese ma chi sarebbero i noi noi continua dicendo forse plurale maestatis tipo il mago telma sapete il mago telma quando dice noi dice noi chi noi lui lui è è la sua entità quindi quando salvini dice noi forse fa un po come il mago telma plurale parla al plurale salvini parla al plurale noi noi abbiamo dimostrato grande compattezza tutti i livelli noi chi salvini leader della lega si esprime così incontrando i deputati del carroccio in vista della votazione che sancirà la rielezione poi di mattarella prima della rielezione dice abbiamo fatto tutto il possibile forse ho esagerato in lealtà e generosità sottolineando poi il grande afferto per umberto bossi silvio berlusconi dice salvini di aver esagerato in lealtà e generosità quindi salvini è una persona estremamente leale leale realmente ha detto leale ma se se è andato di nascosto a votare a mettere a prendere accordi con la sinistra per votare mattarella dopo che nel centro destra avevano detto no a mattarella lui è sparito ed è andato a trattare con la sinistra e poi è deciso da solo e questa me la chiama lealtà ma la lealtà è un'altra cosa lealtà dice l'essere leale riconoscere le lealtà di un avversario lealtà d'animo significa lealtà correttezza franchezza onestà di persona che parla e agisce con sincerità e franchezza secondo voi salvini è una persona che agisce con sincerità e franchezza la persona leale è una persona di cui ci si può fidare in quanto si comporta con sincerità e onestà un amico leale di fiducia fedele fidato mi sembrano caratteristiche che non sono proprio da salvini persona di cui ci si può fidare bah somma si comporta con sincerità è andato di nascosto a prendere accordi con la sinistra amico leale forse amica leale è sempre stata giorgia meloni ma salvini amico leale persona di cui che una persona che dà fiducia una persona salvini propriamente non dà fiducia fidato insomma direi che non è propriamente una definizione che può calzare a salvini beh la lealtà è un elemento anche della personalità è un comportamento etico suscitato dal superio nella psicoanalisi si dice così comportamento etico suscitato dal superio bene forse quello di salvini un superio molto dilatato per questo che va bene insomma io vi ringrazio per avermi ascoltato ma ancora c'era qualche frase di salvini lui dice andiamo a testa alta abbiamo scelto noi per il bene del paese noi chi ci sono stati troppi veti la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità ma chi ci siamo presi una grossa responsabilità tu e chi da solo vinceremo le elezioni politiche governeremo questo paese vinceremo chi che giorgia meloni ti ha detto bye bye che berlusconi ti ha detto saluti vinceremo vinceremo andiamo noi a testa alta salvini continua a parlare al plurale quando quel plurale non c'è più dice abbiamo fatto dieci proposte ma la sinistra non ne andava bene nemmeno una a me non piace fare lo spettatore quando siamo andati a vedere le carte degli altri mi hanno fatto alcune proposte dice quando ne ho accettata una hanno subito detto di no perché andava bene a salvini dice incredibile che nel trittacarne sia finito il capo dei servizi segreti italiani dice imbarazzante e ma salvini non si propone il capo dei servizi segreti come presidente della repubblica quello lo si lo si faceva nei paesi di un certo tipo qualche anno fa e non si propone il capo dei servizi come presidente della repubblica questo dovrebbe dovresti saperlo dopo tanti anni di politica però insomma arrivederci a tutti e grazie